volevo farvi ciao a tutti oggi volevo farvi un video su un creamo insieme con la resina e io come resina utilizzo questa che è la marca Gedeo per la sua semplicità di utilizzo in quanto in questo pratico dosatore con il misurino metto uno di componente A e due di componente no scusate uno di componente B e due di componente A quindi non devo star lì a prendere bilance e tutto il resto ed è una resina cristallo la utilizzo molto molto spesso eccola qua per l'appunto la sto approntando e volevo utilizzare anche questi pigmenti che ho preso che avete visto nell'altro video dalle bimbi e questi dell'area schimica che sono anche loro in una in un precedente video volevo fare anche delle correazioni doppio strato vedere un attimino quello che mi viene fuori perché è la prima volta che li utilizzo e quindi insomma ci vado un pochettino con i piedi di piombo ovviamente sono buoni ma sono io che non li ho mai utilizzati prima d'ora ed escono sempre delle tecniche nuove per me e quindi adesso finisco di girare la resina perché ci mette anche pochissimo questa qui a insomma non bisogna stare lì le ore intere a girarla abbastanza rapido però catalizza in diciamo una decina di ore insomma dipende anche dal tempo e di fatto ho comprato anche questo bellissimo vassoietto con il tappetino in silicone e così almeno dopo li metto direttamente lì sotto e non si sporcano per poter catalizzare poi voglio fare secondo strato vedere cosa ne viene fuori qua c'è anche qualche glitterino ma ci sta anche bene vediamo poi settimana prossima andrò al lobby show di milano e vedrò se potrò trovare altri altri stampi altri pigmenti vediamo se sono se c'è lo stand spero di sì ovviamente dunque boh dovrebbe andar bene adesso che io ce la mandi buona che non farò altre catastrofi alla mia aspettate facciamo la smr della resina che viene girata nel nel bicchierino col cucchiaino di plastica mamma mia facciamoci anche quattro chiacchiere così ma sì come vengono vengono questi video non sono mica una regista una photoshopista siete proprio di casa e quindi come tale che benvengano anche tutti gli errori dunque proviamo proviamo e speriamo bene allora proviamo questo 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 qua è un chameleon aure vediamo un po ma detto che vanno messi ecco qui scusate un attimo l'ho aperto vediamo un po proverò a prenderlo con questo qua per l'ombretto vediamo maria stai calma maria stai calma facciamo prima questa qua la colombina maria stai calma faccio opera di meditazione ovviamente dai forza verrà bene tutto come al solito tutto come al solito faccio opera di auto convinzione l'ho già detto vediamo 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 è spettacolare ragazzi è meraviglioso prendo ancora un bel po sarebbe credo meglio un pennellino però non ho trovato altro vedere prima di spolverare in giro e allora vediamo speriamo bene ragazzuoli sapete come verrà una meraviglia questo se verrà bene il primo solco poi dopo non è mai un solco è quindi incoraggiatemi e qua nessuno nasce imparato quindi e vai ci dobbiamo anche arrabbiare adesso è ma adesso mi arrabbio pigmento muoviti forza cavolo forza avanti brutto scherzo ovviamente cerco di darmi coraggio ma qua veramente tragica ci vuole lavoro certosino è vediamo un po quindi adesso voglio vedere a metterci la resina qua ragazzi è spettacolare potessi farvelo vedere ma voi lo vedete bianco 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 la colomba la colomba camaleontiche e casomai le farò una passata di bianco poi facciamo questi cammeo qua vediamo cosa ne viene fuori dunque scusate mi stoppo allora voi non potete capire che fatica è stata fare tutti i minimi particolari di questi stampi adesso vado a mettere una parte di resina dentro un altro bicchierino e dentro l'altro andiamo a mettere il primo pigmento vediamo un po allora speriamo di non sbagliare casomai ne faremo ancora un po mettiamocene ancora un po di qua e qui andremo a colare speriamo in bene la prima parte proprio uno strato molto sottile ne voglio mettere perché poi dopo farò il secondo strato successivamente come ho fatto con gli altri questo è profondo quindi andiamo meglio vediamo un po cosa ne verrà fuori spero bene insomma dai siamo positivi cerchiamo di essere positivi positivismo proviamo anche questo qua adesso marista e calma eh mamma mia non sono artista piano marì 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 dove marì ecco qua sta buono e non te muove quando ce l'ho ce l'ho e romanaccio ce l'ho allora mo che dio ce la mandi buona ma può fare gli altri no mi colpiva questo blu io so proprio pure paeca che ho ho sbagliato proprio come dice l'ambrenedetto piteca io guarda non c'ho parole marì che stai a combinare non ho parole che sto combinando ok proviamoci proviamo il blu che bellezza ragazzi volevo provarlo che ne verrà fuori proprio curiosa di vedere questo fra l'altro la goccia forza 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 proviamo a vedere mescolando vediamo un po' allora ho finito di mescolare il pigmento questo blu guardate che meraviglia e vediamo come fare questi mamma mia mamma mia mamma mia c'ho paura c'ho ecco di fatto ho già fatto il primo danno è finito qui sopra brava maria e vabbè è veramente una cosa impossibile da fare so proprio furba su ma sì perché non mescolarlo mescoliamolo e faremo questo più questo verrà vediamo cosa ne verrà fuori vediamo vediamo può essere che non sia stata una brutta cosa insomma il fantasy è sempre fantasy però vedete vedete io sono una catastrofe immane nel fare le cose maria cosa hai combinato però vabbè vedete quando io le faccio le sparo grosse ragazzi vedete mamma mia chi ha mai visto un gatto blu forse se levo questo qua di mezzo forse è meglio mettiamolo qua per il momento io faccio il gatto blu io faccio il gatto blu mamma mia che casino che sto combina ma no mi devo riallenare ancora voi ragazzi ma cos'è sta storia ecco qua mettiamolo dentro all'unicorno vediamo cosa ne verrà fuori o ragazzi pregate per me mercoledri mercoledri lo scopriremo eh qua non succede mica niente eh non è mica una tragedia ditemi nei commenti magari che stai a fa eh ce l'ho no quando ce l'ho ce l'ho fammo un unicorno tutto blu il corno il corno il corno il mio periodo unicorno le zampe ho fatto proprio bene dunque mi si è stoppata la registrazione mi sembra logico mi sembra proprio logico eh non so a che punto si è stoppata quindi a questo punto proseguiamo no accidentaccio dell'acidempolina unicorni blu il danno che ho fatto mettemosene in altro poco perché sennò come so fini 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 ma verranno una meraviglia vedrai maria 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 fin dei conti sei un artista allora stiamo pure un poco la farfalla anzi no dopo tutto mettercela dentro è proprio impossibile ragazzi per forza dovrà avvenire così vabbè vediamo bene vediamo questo qua ho ritirato troppo per la miseria qualcuno sbatte e tira aria di maretta da qualche parte il gatto blu il gatto blu poi volevo da fa' quest'altro colore per fa' questo insomma no famo quest'altro colore maria devo dire che la cammellata che ho fatto non è assolutamente ma perché non si toglie? non è assolutamente stata malaccio verrà una sfumatura insomma mamma mia che polvere scusate non è il terremoto ma sono io questa volta non è il terremoto ho sentito quest'estate poi ho mescolato il pigmento questo rosa ho mescolato il pigmento questo rosa e adesso lo andiamo a colare insieme intanto beh non è malaccio è l'idea della colomba così però io volevo fare per l'appunto la colomba blu però vabbè non fa niente dato che comunque è una fantasia adesso andiamo a colare questo allora purtroppo ho avuto un disguido con la memoria del cellulare e questo è il col submitted